La parola al Consigliere Sassi, prego. Grazie Presidente. Ho ascoltato con attenzione, ho letto la risoluzione che tra l'altro mi tocca anche personalmente, visto la storia familiare. Mio padre, se sono qui, ha avuto la fortuna di tornare dalla guerra dopo essere stato comandante partigiano. Quindi il fatto di riconoscere i luoghi della memoria, avere risorse per portare anche nelle scuole, perché forse è da lì che bisogna partire, una formazione, un'informazione su ciò che è stato, la gioventù di alcuni dei nostri concittadini che l'hanno spesa per la difesa della democrazia e della libertà. Tra l'altro segue perfettamente ciò che è il contesto costituzionale, visto che la nostra Costituzione è dichiaratamente antifascista, e ci tengo a ribadirlo antifascista. ritengo per oltre sì di dare una certa attenzione al fatto che quando ci sono iniziative lodevoli come queste, a volte sfugge, in alcuni casi in passato è capitato per altri contesti, la gestione delle risorse. Quindi bisogna, quello che vorrei portare, chiedere all'Assemblea, e in particolar modo ai firmatari di questa risoluzione, è di comunque prestare molta attenzione alle risorse che sono sempre scarse, vanno usate in modo oculato, in modo efficace. Le scuole, come bacino di formazione delle nuove menti, che devono comunque un domani far parte attiva della nostra collettività, credo che sia un passo importante. Così come la valorizzazione, sentivo prima la consigliere Mori, accennare al fatto della valorizzazione dei percorsi partigiani, anche se vogliamo in forma turistica, che non ritengo essere un'idea sbagliata, visto che tra l'altro la stavamo anche elaborando con alcuni amici appassionati della storia della seconda guerra mondiale, in quel di Reggio Emilia dei percorsi partigiani, agganciandoli a quelle che sono le tipicità dei nostri terreni, dei nostri prodotti enogastronomici, quindi creare un percorso sia formativo turistico, sia per quanto riguarda il turista non nazionale, ma anche per quello che possono essere i percorsi scolastici. L'unica cosa che tengo a puntualizzare in chiusura è proprio quella di prestare molta attenzione agli stanziamenti e fare in modo che siano oculati e ben spesi, perché portino ad essere efficaci nell'obiettivo che ci si ripropone. Grazie. Grazie.